Anche la Regione Piemonte è la Marcia per l'Amnistia, la Giustizia e la Libertà, intitolata quest'anno alla memoria di Marco Pannella e a Papa Francesco, che coinvolge realtà impegnate sul territorio piemontese come Gruppo Abele, Libera, Acli e Unione Camere Penali. Dal Piemonte è inoltre prevista la partecipazione di una delegazione al Giubileo dei Detenuti, dove Papa Francesco ha invitato carcerati in permesso con i familiari, accompagnati da volontari e da operatori penitenziari. Le varie carceri piemontesi partecipano al Giubileo dei Detenuti in forme molto diverse, articolate e significative. C'è anche una processione ad Europa dal carcere di Biella, c'è l'apertura della Porta Santa in tutte le carceri piemontesi, c'è la partecipazione significativa dei detenuti all'iniziativa pubblica della marcia che da Regina Celia andrà a San Pietro, che coinvolge molte istituzioni e enti locali come la Regione Piemonte, i garanti dei detenuti della Regione Piemonte, tante associazioni come Libera, Donciotti, il Gruppo Abele, l'Unione Camere Penali. Si tratta di un momento significativo per riportare all'attenzione anche dell'agenda politica la questione del carcere. Lo vediamo in questi giorni, un carcere che è difficile, che è complicato, ma che ha bisogno di speranza, speranza di riforma, speranza di un cambiamento, come peraltro ci chiedeva la Corte Europea dei diritti dell'uomo. È sintomatico che Papa Francesco, prima della chiusura del Giubileo, abbia messo due importanti personaggi, se volete, due figure simboliche molto alte, i carcerati e poi la domenica dopo quelli che non hanno dimore. Cosa vuol dire? I carcerati credo che Papa Francesco glielo debba proprio per tutto quello che lui ha fatto sempre, sia nei gesti delle visite, nelle parole che ha detto. È molto attento, ma gli deriva da questa esperienza che ha fatto in Argentina come vescovo, come arcivescovo. Lui racconta che scriveva, andava a trovarli, e gli veniva fuori questa riflessione perché loro e non io. Quindi credo che questa cosa qui del Giubileo sia un esito naturale per lui, della sua attenzione profonda che ha avuto per i carcerati. Cosa vorrà dire per i carcerati? Questo lo raccoglieremo nel momento a venire. Certamente credo che voglia dire in sintesi anche un messaggio alla politica, per dire che questi non sono sempre degli emarginati, che non si deve buttare via la chiave, come si dice, in modo molto semplice, perché qualche volta, al di là delle dichiarazioni e degli intenti, le attenzioni reali sono ancora basse. Grazie a tutti.